Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è il nuovo video. Ho accumulato una bella pila di libri da farvi vedere, quindi mi sembra opportuno registrare il video book haul perché i scaffali altrimenti crollano, devo risistemare tutto ancora. Ogni volta che faccio un video book haul significa che la mia libreria cambierà in qualche punto. Quindi se vedete qualche libro spostato durante i video perché me lo chiedete è perché appunto aggiungo cose. Ovviamente credi non perderci in chiacchiere perché questo è il book haul di due mesi e mezzo, praticamente aprile, maggio e gli inizi di giugno, quindi due mesi e qualche giorno. Detto questo io direi di cominciare immediatamente. Questo book haul sarà un po' particolare perché ci sono delle categorie di libri, ovvero libri che ho trovato nelle bookish box, libri che ho comprato usati, libri che mi sono arrivati dalle case elettrici e libri del mio compleanno. Pochi acquisti perché appunto con tutta la cosa del virus ho cercato di acquistare il meno possibile e niente, partiamo. Partiamo subito con i regali del mio compleanno appunto che risalgono aprile. Li avete già visti nel video in cui ho aperto questi regali, ma ce ne sono due che non avete visto perché ci sono stati dei cambi e poi vedrete. Partiamo subito con il primo libro, ovvero lui, Lo sguardo lento delle cose muti di Patrick Routhfuss. È una novella all'interno del mondo del nome del vento. Non l'ho ancora letto perché appunto lo leggerò quando poi, prima di leggere il secondo libro, visto che ancora non l'ho letto. Comunque ci tenevo tantissimo a avere questa piccola novella. Tra l'altro all'interno ci sono anche dei bellissimi disegni. Non ho idea di come questa storia influisca sulla storia generale. Non so chi sono i protagonisti, non so assolutamente niente. So solo che ho amato totalmente tanto il nome del vento che mi sembrava giusto avere appunto anche questa novella che va a completare un po' il tutto. Come vi dicevo appunto poi ci sono tanti disegni comunque all'interno del libro. È molto molto breve e staremo a vedere comunque. Quindi questo è il primo. Continuando abbiamo A Mask of Shadows di Oscar de Muriel. Questo è il terzo libro della serie The Strings of Murder che è una serie misteri ambientata alla fine dell'Ottocento e che io amo totalmente. L'anno scorso ho letto il primo libro e sto aspettando appunto che arrivi l'autunno per continuare a leggerla. Sono questi due protagonisti, un'ironia molto particolare che ho apprezzato tantissimo. Il mistero di base mi era piaciuto tanto 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 quindi non vedo l'ora di continuarlo. Tra l'altro queste paperback le adoro, i libreria sono bellissime. Ludovica mi ha regalato uno dei libri della mia adorata Jameson e si tratta di The Killing Moon. Questo è il primo libro di una duologia che potete trovare anche in italiano edito da Fanucci. Il secondo dovrebbe uscire in questi giorni dopo tantissimo tempo. Io la Jameson l'adoro. Questa è una duologia con una trama molto molto particolare di cui ultimamente abbiamo anche parlato nel video delle serie che vorrei vedere vi stampate. Quindi magari andate a vedere perché è davvero molto molto interessante. E niente, anche qua non vedo l'ora di leggerlo. Sono molto 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 curioso perché le aspettative verso questo libro sono davvero molto molto alte. Andrea e Sara poi mi hanno regalato insieme l'edizione illustrata di Harry Potter e il calice di fuoco. Questa meravigliosa bestia che è enorme, che ho amato totalmente. Queste edizioni appunto illustrate di Harry Potter sono qualcosa di assolutamente eccezionale. Sono bellissime illustrazioni incredibili. Incredibili i colori, tutto. E devo dire che questa sfogliandola per ora è la mia preferita. Partendo dalla copertina che mi fa impazzire. Oddio. I colori, tutto quanto. È veramente molto molto bella e è un'edizione bellissima. È un meraviglioso regalo. L'ultimi due regali di compleanno non li avete visti perché appunto come vedete ci sono stati dei cambi. E questo da parte di Camilla che mi ha preso The Court of Broken Knives di Anna Smith Spark. Questo è il primo libro di una trilogia fantasy per adulti che anche qua mi intriga da morire. Per ora non è stato mai pubblicata in Italia. La trilogia è completa quindi se volete andare a leggere la trama sembra davvero molto interessante anche questo caso. La puntavo da parecchio e in libreria con questa costina fa un effetto bellissimo. Anche qua non vedo l'ora di leggerla e spero di poterlo fare anche qua al più presto come tutte le cose. Passiamo a questa piccola Bibbia che quando l'ho aperto il pacco volevo svenire perché è uno dei libri che voglio leggere di più da parte di Arianna. E si tratta di The Legacy of Ash di Matthew Ward. Questo anche qua si trova solamente in inglese. È enorme, è una piccola Bibbia, è bellissimo. E sicuramente mi ci dedicherò quest'estate. Sarà una delle letture che quest'estate avrà la precedenza perché appunto essendo così grande adesso non ho veramente tempo, testa per potermi buttare all'interno di questo libro. Ho sentito cose meravigliose e non vedo l'ora di leggerlo, di buttarmi. Ci sono davvero un sacco curioso. Questo si tratta, se non sbaglio, di un esordio. E comunque ho avuto delle ottime recensioni, quindi staremo a vedere. Anche qua si tratta di una trilogia e come vi ho detto all'inizio per ora non è pubblicato ancora in Italia. Passiamo a tre libri che ho preso usati. In verità è stato uno scambio con una ragazza su un mercatino di Facebook. E manco a farlo apposta, i colori di questi tre libri matchano la perfezione. Cioè il pacco era con questo rosa salmone veramente bellissimo. E quindi adesso ve li faccio vedere. Questo scambio è partito in modo particolare per questo libro, ovvero The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein di Kristen White. Questo è il libro autoconclusivo che potete trovare anche in italiano con l'oscura discesa di Elizabeth Frankenstein, se non sbaglio, per HarperCollins. E questa è l'edizione appunto americana bellissima. Adoro questa copertina che sembra appunto pelle cucita, perché infatti è una specie di retelling di Frankenstein, da quello che ho capito di Mary Shelley. Quindi sono molto molto curioso. Anche di questo libro ho sentito sempre cose estremamente positive. Io devo essere sincero, con la White non ho un bellissimo rapporto. Non ho letto tante cose. Lessi all'epoca la trilogia di Paranormal Menz, una cosa del genere, non ricordo, che non mi era piaciuta per niente. Avevo odiato tutti e tre i libri. Poi ho letto André Duncan, che invece avevo adorato follemente, ma purtroppo poi è stata interrotta in Italia, quindi non ho mai avuto modo di continuarla. Ma i suoi libri in qualche modo riescono sempre a catturarmi, perché secondo me partono da delle trame molto interessanti e questo appunto è uno di quei libri che mi interessano particolarmente. Anche qua sto aspettando l'autunno per poterlo leggere perché le atmosfere sono un po' quelle, quindi sono molto molto curioso. Oltre a Elizabeth Frankenstein, c'era un altro libro che mi interessava particolarmente. Si tratta Daisy Jones and the Six, di Taylor Jenkson Reed. Questa è l'attrice del più famoso libro, The Seven Wives of Evelyn Hugo, che verrà pubblicato da Oscar Wilde più presto, quindi io voglio leggerlo tantissimo, ma da quando è stato annunciato appunto sto aspettando. Ma questo appunto mi incuriosiva altrettanto. Sono anche qua molto curioso, se devo essere sincero non so bene di cosa parla. La struttura di questo libro è molto particolare perché appunto, come potete vedere, è una specie di copione in cui ci sono i nomi dei personaggi con due puntini e qualcosa. Credo appunto che siano descrizioni, non mi sembrano che siano dialoghi e non lo so, mi incuriosisce tanto. Spero anche qua di poterlo leggere al più presto. Mi piace un sacco, tra l'altro l'edizione è veramente molto molto bella. Adoro i colori follemente e quindi anche questo lo desideravo ardentemente. Potete cominciare già a vedere che questi colori matchano tantissimo. E arriviamo all'ultimo. L'ultimo libro è un libro che io ho adottiato perché è uscito recentemente ed è un libro che ha ricevuto tantissime critiche, però mi è incuriosiva. E si tratta di Docile, credo, di K.M. Spara, credo. Si tratta di un libro distopico a tematiche LGBT. Ne ho sentite di cotte e di crude. Anche Elna di Miss Nery ne ha parlato, non in modo entusiasta, però mi ha incuriosito. Mi ha davvero incuriosito ancora di più sentirne parlare così male. Io forse sarò anche masochista, non lo so, però appunto la ragazza, vendolo lì in scambio, ho deciso di inserire anche questo visto che a lei interessavano anche altri libri miei e quindi anche lui è entrato nella mia libreria. Non so quando lo leggerò, però sono molto curioso perché le premesse di questa distopia mi interessavano particolarmente. Poi se farà schifo, come forse sicuramente sarà, ecco me ne assumo tutte le colpe. E come vedete appunto questo pacco meciava tantissimo, ripeto. Ora passiamo ai libri che ho trovato nelle bookish box. Allora, questo è Evenfall di Sarah Holland che ho trovato nella box di Illumicrate di marzo. Un libro che sinceramente non mi ispira tantissimo, è una bellissima edizione perché appunto è un'edizione speciale dell'Illumicrate, molto molto corto. Sicuramente lo leggerò perché Sarah Holland è comunque un'attrice che a me ha sempre incuriosito, non è il suo primo libro, però non ho mai letto niente e visto che ormai ce l'ho appunto lo leggeremo. Ma le premesse non mi incuriosiscono più di tanto. Passiamo poi a Dangerous Remedy di Kat Dunn. Questo è il libro che ho trovato nella Illumicrate di aprile, se non sbaglio, anche qua bellissima edizione che devo dire mi intriga particolarmente. La trama mi ha incuriosito tantissimo e anche qua spero di poterlo leggere e poi ne parleremo insieme ovviamente. Nella Flycrate di marzo ho trovato questa bellissima edizione di The Maidenship di Micheline Rickman, credo che si pronunci così. L'avete vista appunto nell'unboxing, è un'edizione incredibilmente bella con queste pagine rosa metallizzate, questo bronzo rossato metallizzato e tra l'altro il libro appunto ha ovviamente una sottocopertina, questo artwork stupendo. Poi ancora il libro sotto si presenta in questo modo, è bellissimo, mi piace da morire. Il libro non lo conoscevo quando l'ho trovato nella Flycrate, devo dire che la trama non mi intriga particolarmente, però staremo anche qua a vedere, sicuramente lo leggerò perché comunque voglio vedere, sta di fatto che l'edizione è veramente molto 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 bella. Per la Little Joycrate invece ad aprile ho trovato The Empire of Dreams di Rick Carson, questo è il quarto libro della trilogia principale dell'attrice, in verità appunto è un libro autoconclusivo che viene ambientato otto anni dopo la fine della trilogia principale. Non ho capito ancora il senso di mettere un libro che comunque teoricamente è il quarto libro della serie perché su Goodreads viene inserito come il quarto libro all'interno di una box mensile, però questo è. In tutta la copertina c'è questa bellissima fan art che appunto diventa un'altra copertina. La trilogia principale si chiama The Girl of Fire and Turns. Mi ispira tanto anche se sono venuto a sapere delle cose che mi hanno fatto un po' passare la voglia di leggerla, però vedremo. Non me la sento sinceramente di leggere un libro che mi sporerebbe ovviamente la finale della trilogia originale. Non lo so, vedremo. Sempre in Elite Joy Crate di maggio ho trovato The Fascinators di Andrew Eliopoulos che come vedete sto leggendo quasi finito. L'edizione è molto molto carina, tra l'altro sotto la copertina c'è questa bellissima fan art adoro follamente i colori. Questa è una delle uscite di maggio che io aspettavo di più perché le premesse sono libro Conte Amati che è LGBT in cui ci sono i nostri protagonisti che praticamente sono degli outsiders che hanno questo club di magia dove appunto praticano la magia in un mondo che non accetta ancora le persone che la usano. Mi interessava tantissimo. L'ho quasi finito. Ne parleremo nel wrap up ma credo che sia una delle cose più brutte che abbia mai letto perché tutti gli elementi che mi interessavano praticamente vengono trattati proprio con i piedi. No. E il finale sta andando sempre peggio quindi poi ne parleremo. Un vero peccato perché mi mi ispirava tantissimo questo libro davvero davvero tanto. L'acquisto del mese ragazzi. Io ormai avevo perso le speranze verso questo libro cioè mi ero messo proprio il cuore in pace non l'avrei mai trovato e vabbè va bene così. Si tratta Nevernight. Questa è l'edizione UK di Nevernight introvabile davvero introvabile se ti trova a prezzi assurdi che io ho trovato sono felicissimo di questa cosa perché finalmente la mia collezione di Nevernight ha un senso perché senza questo non ce l'aveva non ci speravo davvero più poi una ragazza mi ha contattato su Instagram che lo vendeva e ecco mio 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 ovviamente si tratta di un libro da collezione perché ce l'abbiamo anche in italiano eccetera eccetera però ci tenevo tantissimo ad averlo sono davvero felicissimo ora lo scaffale di Nevernight è completo passiamo a qualche acquisto che ho fatto durante questo periodo e parliamo di un attore in particolare ovvero Rob J. Ace in questi ultimi mesi ve ne ho parlato nel wrap up c'è anche un video recensione di uno dei libri che vi farò vedere è diventato una mia grande ossessione quindi ho recuperato ecco qualcosa il primo libro che ho letto e per ora il mio preferito dell'autore è Along the Razor Age questo appunto è il primo libro di una trilogia sto aspettando che Amazon renda disponibili il secondo e il terzo o che le abbassano di prezzo perché il pezzo è un po' altino ed è uno dei libri fantasy più belli che io ho letto quest'anno si tratta di un autore autopubblicato e le premesse di questo libro sono qualcosa di fantastico appunto c'è la video recensione in cui ve ne parlo io ve lo consiglio tantissimo purtroppo si trova solamente in italiano ma è una storia con questa protagonista anti-eroina e all'interno del libro l'autore utilizza delle tecniche narrative molto molto interessanti che fanno sperare per i seguiti che io non vedo l'ora di leggere veramente spero che Amazon appunto mi abbassi il prezzo del secondo e soprattutto adesso non è più disponibile perché voglio assolutamente leggerlo in cartaceo questo è poi stata una sorpresa perché l'avevo ordinato a inizio metà marzo e mi è arrivato tipo ai primi di maggio perché non era disponibile quindi quando è arrivato ho fatto i salati di gioia anche perché l'edizione mi piace un sacco molto molto bella consigliatissimo pre di Rob Jace quindi poi sono andato a recuperare altre due cose e ho preso in modo particolare due libri autoconclusivi perché dopo aver iniziato comunque un'altra trilogia non volevo buttarmi su altre trilogie perché comunque ha scritto veramente tantissimo e mi sono buttato su questi due libri autoconclusivi che tra l'altro uno di questi è uno dei più apprezzati dell'autore il primo è Never Die che appunto l'ho già letto ve ne ho già parlato mi è piaciuto anche qua si tratta di un libro autoconclusivo molto molto corto sicuramente ha i suoi difetti perché ce l'ha e mi è piaciuto nettamente meno di Along the Razor Age però comunque molto valido è un libro con queste ambientazioni giapponesi orientali una delle cose che tra l'altro ho apprezzato di più perché l'autore secondo me è stato molto molto bravo a trascinare il lettore all'interno di questa atmosfera si tratta di un libro che comunque parla di vendetta e di redenzione e soprattutto ci sono tante scene di battaglio ma sono fatte veramente molto molto bene anche questo ve lo consiglio che purtroppo non è disponibile in italiano completamente a scatola chiusa poi ho preso City of Kings questo è uno dei libri più apprezzati dell'autore ho sentito veramente delle bellissime recensioni e opinioni per quanto riguarda questo libro sempre autoconclusivo che però se non sbaglio è ambientato nello stesso mondo della prima trilogia scritta dall'autore ci sono vari giri che fa ma non ho ben capito però ho letto che si può leggere tranquillamente quindi me lo sono preso non so davvero niente di questo libro l'ho preso completamente a scatola chiusa la copertina non mi intrigava particolarmente però dopo aver letto tutte quelle recensioni ho detto sai che prendiamolo e quindi anche qua non vedo l'ora di leggerlo ve l'ho detto Roger Hayes per me è una delle scoperte di questo 2020 come vi ho detto è appunto è un autore autopubblicato ma con un talento secondo me davvero prezioso passiamo poi a altri libri usati che ho acquistato in questo periodo anche questi l'avete visto nell'ultimo tiattino da letto perché ci ho fatto l'unboxing sono riuscito con tanta soddisfazione a recuperare il ciclo di Dune nell'edizione della Sperly & Kapfer eccola qua solamente però dal secondo al sesto volume sono ancora in cerca del primo che ho nell'edizione attuale della Fannucci si tratta appunto di una vecchissima edizione della Sperly & Kapfer perché il ciclo di Dune ha avuto comunque diversi editori tra cui Nord Fannucci è appunto Sperling ma anche per la Fannucci è quasi introvabile i libri ho visto che adesso hanno rimesso il primo gli altri non sono sicuro però comunque questa a me piaceva così tanto che ho cominciato un po' a fare dei giri e l'ho trovata ad un prezzo tra l'altro veramente nullo quindi sono molto felice e appunto questo è il secondo libro Messia di Dune il terzo libro I figli di Dune l'imperatore Dio di Dune è il quarto gli eretici di Dune è il quinto e la rifondazione di Dune è il sesto e ultimo volume io per ora sono riuscito a leggere i primi tre volumi della serie quindi devo dire che ne abbiamo già parlato nel wrap up ma ho nettamente preferito il primo libro rispetto a questi due perché viene affrontata la storia in maniera molto molto diversa però è una delle mie grandi scoperte del 2020 sono molto felice di aver recuperato questa edizione quindi l'adoro adesso devo cercare il primo tra l'altro sempre nello stesso pacco quindi sempre dalla stessa ragazza che mi ha venduto il ciclo di Dune nell'edizione Sperling ho preso anche i primi tre volumi del seguito diciamo di Dune che fu scritto da Brian Herbert ovvero il figlio di Frank Herbert si tratta appunto di una serie di quattro libri io per ora ho questi tre il primo è Casartreides il secondo il Duca Leto e il terzo i ribelli dell'impero non ho ben capito se è una storia che appunto fa da seguito oppure sono semplicemente libri autoconclusivi che vanno a raccontare determinati fatti non ho idea non mi sono informato poi quando arriverà il momento di leggerla lo farò però appunto per ora ce l'ho visto che comunque anche qua il prezzo era nullo e tra l'altro l'edizione della Mondadori è bellissima mi piace un sacco e questa se non sbaglio non so se è stata ristampata dalla Fanucci sapete non ho idea passando a qualche arrivo da parte di Cassi Editrici abbiamo Ballata Dello Signore del Serpente di Susan Collins che è appunto il nuovo libro di Hunger Games che fa da prequel alla trilogia originale edito dalla Mondadori e ci va a raccontare la storia del Presidente Snow ne abbiamo già parlato e c'è un video appunto in cui vado a parlare senza spoiler del libro che a me devo dire è soddisfatto tanto ci sono dei difetti ma la cosa principale di questo libro ovvero il personaggio di Snow per me è stata una grande scoperta non avevo aspettative di nessun genere su questo libro invece devo dire che è stata una lettura che io ho apprezzato particolarmente tra l'altro avremo modo di parlarne in modo più approfondito perché il 14 giugno quindi domenica questa domenica alle 18 sul mio canale ci sarà una live con spoiler sul libro in cui ne andremo a parlare e insieme a me ci saranno Andrea del canale Andrea Belfiori Giulia della Perfa e Elma di Miss Nelly quindi leggetelo avete tempo fino a domenica per poterne discutere insieme a noi perché credo che sia interessante comunque parlare con tutti gli spoiler del caso e quindi poi ci vediamo domenica con la live su Ballata del Signore e del Serpente sempre per Mondadori poi abbiamo La Nona Casa di Libardugo questo è stato uno dei miei libri preferiti di questo 2020 anche di questo c'è una recensione senza spoiler se volete farvi un'idea perché La Nona Casa non è assolutamente un libro per tutti si tratta del primo libro per adulti scritto dalla Bardugo che io ho davvero apprezzato comunque per approfondire c'è il video in cui ne parlo per una ventino di minuti buoni quindi vi rimando a quello Edizioni O mi ha mandato due saggi a cui tengo particolarmente il primo è Ragioni per Continuare a Vivere di Matt Haig Matt Haig è un autore che io avevo apprezzato moltissimo con il suo romanzo come Fermare il Tempo sempre edito da Edizioni O e questo è un saggio si tratta di una nuova edizione pubblicata da Edizioni O appunto dove tra l'altro c'è anche un'introduzione esclusiva per questa nuova edizione italiana e Matt Haig ci va a parlare di depressione soprattutto la sua storia personale con la depressione come l'affrontata è un racconto molto intimo che io ho già letto ne parleremo poi nel wrap up in maniera più approfondita ma devo dire che l'ho trovato incredibile davvero molto 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 bello credo che il modo in cui Matt Haig affronta questa tematica così delicata sia incredibile è un racconto molto intimo molto personale della sua storia credo che sia davvero un ancora di salvezza per tante persone davvero un bellissimo saggio che vi consiglio caldamente lo trovate perché è uscito il 4 giugno per appunto Edizioni O bellissimo insieme a ragioni per continuare a vivere mi è arrivato un altro dei saggi di Matt Haig vita su un pianeta nervoso questo è uscito se non sbaglio uno o due anni fa sempre per Edizioni O e in questo caso Matt Haig ci parla di ansia anche su ragioni per continuare a vivere comunque Matt Haig affronta l'ansia perché è un altro problema che lo affligge pesantemente ma in cui da quello che so perché ancora non ho letto l'ansia è il tema centrale sono molto molto curioso dopo aver letto quello anche qua ho altre aspettative soprattutto perché è un problema che sento particolarmente quindi non vedo l'ora di leggerlo infine passiamo a Fanucci che mi ha mandato ben tre libri allora il primo è La Rovina dei Re di Jen Lyons questo è il primo libro di una serie fantasy per adulti che io non vedo l'ora di leggere c'è questa mappa tra l'altro ed è un tomone devo dire abbastanza sostanzioso non me lo aspettavo perché lo immaginavo molto molto più piccolo questo è uscito per appunto Fanucci all'inizio di no alla fine di febbraio e lo aspettavo tanto perché anche qua ero molto molto curioso credo che sarà una delle letture di quest'estate spero di poterlo leggere a inizio luglio almeno quando finirò la sessione visto che appunto anche qua ho bisogno di dedicargli del tempo spero non sia una delusione è arrivato poi anche Navarro il mondo di sotto di Andrea Gobbi questo è un libro middle grade quindi per un pubblico molto giovane che devo dire ha una premessa molto interessante ovvero la scoperta delle indie di Cristoforo Colombo non è andata proprio come c'è stato raccontato come la storia dice e quindi parte tutta la storia tra l'altro una bellissima edizione della Fanucci mi piace un sacco è veramente molto molto bella con queste pagine sono curioso devo dire che sono molto curioso e ve ne parlerò poi perché credo appunto che sarà una delle mie prossime letture visto che si tratta un libro comunque per giovani e quindi credo semplice e molto scorrevole e in questo periodo ne ho bisogno quindi poi ne parleremo la copertina mi piace un sacco non ho ben capito se si parla di pirati però le atmosfere della copertina richiamano appunto ai pirati vedremo io adoro i pirati quindi staremo a vedere l'ultimo libro da parte di Fanucci è La ragazza nella torre di Catherine Arden questo è il secondo libro della trilogia La notte dell'inverno cominciata con L'orso e l'usignolo l'ho messo all'interno della TBR di giugno perché vorrei riuscire a leggerlo visto che poi il 25 giugno uscirà il terzo libro quindi mi piacerebbe concluderla questo mese spero di riuscire a farlo sono molto molto curioso di continuare questa storia visto che L'orso e l'usignolo mi era piaciuto davvero davvero tanto anche qua poi comunque ne parleremo altri libri che ho trovato usati a prezzi davvero molto molto convenienti allora si tratta di King of Thorns di Mark Lawrence Emperor of Thorns sempre di Mark Lawrence questo è il secondo e questo è il terzo libro della trilogia il primo Prince of Thorns non ce l'ho ancora e devo recuperarlo io avevo letto il primo libro della trilogia qualche tempo fa e l'avevo semplicemente adorato tranne il problema dell'età del protagonista che mi aveva un po' lasciato di stucco perché il protagonista è uno di quegli enteroi che per definizione diciamo vedo che sia appunto uno dei protagonisti più tremendi che io abbia mai trovato in un libro fantasy cioè un personaggio davvero ignobile ma io l'avevo adorato mi era piaciuto tantissimo poi avevo cominciato il secondo che non mi aveva fatto del tutto impazzire però appunto avendoli trovati ho deciso di prenderli perché voglio rileggere il primo ormai sono passati due anni quindi rileggerò il primo e poi voglio concludere la serie comunque l'avevo davvero apprezzato tanto il primo magari non ero nel modo di leggere il secondo in quel periodo non lo so e quindi lo do due ah sono anche stati pubblicati in italiano per Hamilton Compton abbiamo poi The Winner's Curse di Mary Rutkowski quanto ne abbiamo parlato di questa trilogia negli ultimi tempi non lo so appunto l'ho preso perché l'ho letto in pdf e poi lo sto recuperando adesso in cartaceo mi manca il terzo è una delle serie young adult più belle che ho letto quest'anno mi ha sorpreso tantissimo anche di questo c'è un video a parte dove ne vado a parlare senza spoiler pubblicato in italiano da leggere editore io ve la consiglio tanto 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 e per concludere abbiamo Una vita come tante di Anya Yanigara anche di questo c'è due video un reading vlog dove vado a mostrare le mie emozioni disperate nei confronti di questo libro e un book talk dove invece vado a parlarne in maniera più approfondita con spoiler eccetera eccetera un libro difficile vi rimando a quei video per capire di cosa sto parlando perché appunto non sto a dilungarmi visto che in totale quei due video sono quasi un'ora 40 minuti quindi vi rimando a quei due video passiamo a i classici dell'edizione RBA si sono accumulati perché ho fatto l'abbonamento a questa collana di libri che sta uscendo in edicola ormai da inizio anno siamo arrivati alla nona uscita e io sto prendendo per adesso i libri che mi interessano di più e questi sono appunto quelli che ho accumulato in questi in questi tempi partiamo quindi da cime tempestose e piccole donne con cui ho iniziato l'abbonamento online perché ragazzi ho girato una cosa come più di 20 edicole per trovare questo libro nessuno ce l'aveva e quindi mi sono dovuto arrendere a prenderlo online questa collana la stanno comprando tutti praticamente e quindi loro il mio adoratissimo Jane Eyre e ragione e sentimento di Jane Austen l'età dell'innocenza che in verità non mi interessava particolarmente però ormai essendomi abbonato ho detto vabbè lo prendiamo poi magari che ne sai potersi pure che lo adorerò quindi l'ho preso e Emma di Jane Austen che è il mio libro preferito della Austen e per finire la meravigliosa edizione di Madame Bovary che per ora credo che sia una delle mie preferite e la bazzia di Northanger di Jane Austen siamo arrivati qua però adesso ho interrotto l'abbonamento perché ci sono state uscite che non mi interessano particolarmente sono edizioni meravigliose davvero bellissime che appunto potete trovare potete acquistare ancora sul sito dell'RBA oppure non sto chiedendo in edicola non sono libri che trovate in libreria ma solamente in edicola appunto escono ogni sabato da giugno tra l'altro una volta a settimana prima erano due quindi ovviamente per risparmiare devo fare una cernita dei libri che mi interessano di più e quindi poi sotto vi lascio il sito dell'RBA se volete andare a curiosare bene io credo di aver finito spero di non essermi dimenticato niente ma probabilmente qualcosa mi sarò dimenticato semmai ricopriamo con il prossimo book haul niente io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere quali sono stati i vostri acquisti più eclatanti in questi ultimi tempi e niente noi ci vediamo nei commenti e ci vediamo un prossimo video ciao a tutti ragazzi